Buongiorno onorevole Paolo De Castro, ringrazio di aver accolto l'invito del comitato Ci siamo a Bruxelles e rispondere alle nostre domande. Io partirei dalla sua esperienza in politica italiana sia come deputato, come senatore e anche come ministro al governo. Può farci un esempio agricolo del perché è utile votare sia al referendum? Abbiamo appena approvato una legge che è attesa da tutto il settore vitivinicolo italiano, un esempio chiaro che fa capire quanto è importante andare a votare sì. Si chiama testo unico del vino, una legge che semplifica la burocrazia per le nostre cantine sociali, per i nostri produttori vitivinicoli. Ebbene questa legge è stata approvata alla Camera dopo tanto tempo di dibattito e discussione e adesso potrebbe essere già in vigore se avessimo le regole che questo referendum vuole approvare. Invece purtroppo va al Senato e al Senato è iniziata una discussione che potrebbe durare sei mesi, un anno, potrebbe addirittura andare a modificare qualcosa votato alla Camera e quindi il testo dovrà ritornare alla Camera per essere ridiscusso con le modifiche del Senato e così via un ping pong tra Camera e Senato che purtroppo la nostra Repubblica da decenni porta avanti e con il rischio di non vedere mai la luce o se vedrà la luce la vedrà dopo tre anni. Ecco, noi non possiamo più permetterci questo bicameralismo paritario, questo ping pong Camera e Senato. E' una delle più importanti riforme che questa riforma costituzionale che abbiamo approvato e che il referendum dovrà in qualche modo fare esprimere tutti i nostri cittadini è che elimina il bicameralismo paritario. Finalmente solo una Camera approverà le leggi. Il Senato continuerà a funzionare ma continuerà a funzionare solo per alcuni specifici settori che riguardano soprattutto gli effetti diretti sugli enti locali. Grazie Onorevole. Un'altra domanda, qual è secondo lei il valore aggiunto del nuovo Senato che viene disegnato dalla riforma costituzionale? Finalmente iniziamo a costruire quello che è la Camera delle Regioni, quello che già in Germania esiste da tanti anni cioè la possibilità di vedere accanto alla Camera primaria, cioè la Camera che fa le leggi e che dà la fiducia al Governo una Camera delle Regioni, delle città, degli enti locali che può partecipare al percorso legislativo lì dove ci sono leggi di interesse locale e regionale. Però attenzione, non è un bicameralismo come i fautori del no dicono perché in realtà se noi andiamo a vedere concretamente il lavoro di questo Parlamento degli ultimi quindi tre anni e ci rendiamo conto che oltre il 90% di tutte le leggi che abbiamo approvato con il ping pong le avremo approvate solo in una Camera. Quindi è la Camera delle Regioni. Il valore aggiunto è riuscire a dare voce agli enti locali ma in un contesto di unità nazionale. Grazie Onorevole. Qual è il ruolo che può giocare l'Italia in Europa se vince il Sì? Questo forse è l'atto che per noi parlamentari europei è più importante e noi oggi abbiamo una straordinaria occasione per il nostro Paese. Davvero essere il Paese che può guidare questo grande processo di cambiamento e di miglioramento dell'Europa perché noi vogliamo l'Europa, noi siamo convinti che c'è bisogno di più Europa, non di meno Europa ma vogliamo un'Europa diversa, un'Europa che per esempio finalmente metta mano a questo patto di stabilità che riesca finalmente a cambiare queste regole dell'austerity accompagnandole con delle regole sullo sviluppo, sulla crescita quello che diciamo da sempre ma che oggi con il referendum che c'è stato del Brexit in Inghilterra con i rischi dei populismi nei vari Paesi europei beh se l'Italia non riuscisse a fare uno scatto in avanti con maggiore forza e quindi il nostro governo, il nostro Presidente ad andare a questi tavoli con maggiore forza noi non solo perderemo un'occasione straordinaria per l'Italia ma perderemo un'occasione straordinaria per l'Europa e noi continueremo a essere di nuovo additati, eccoli, i soliti italiani promettono, dicono ma poi alla fine non concludono mai nulla. Grazie onorevole. Ultima domanda, perché secondo lei è importante votare sì? è importante votare sì perché sono 30 anni che aspettiamo un cambiamento della seconda parte della Costituzione quella che definisce le regole di funzionamento, non la prima parte, quella a cui siamo tutti affezionati e che nessuno vuol cambiare, che sancisce i principi su cui si fonda la nostra Repubblica la seconda parte sono i meccanismi con cui funziona lo Stato se io ricordo addirittura la Nilde Jotti nel 1979 diceva che bisognava cambiare questo bicameralismo in tutto il programma dell'Ulivo con Romano Prodi, da sempre che lo diciamo oggi abbiamo un'opportunità a farlo si poteva fare meglio? Beh certo che si poteva fare meglio, tutto si può far meglio ma questo è un grande passo avanti e poi vedremo, se si sarà a fare degli aggiustamenti li faremo ma è innegabile, come ha detto proprio in questi giorni il Presidente Napolitano che questo costituisce uno straordinario passo avanti migliorare i rapporti Stato-Regioni rendere più efficiente la macchina dello Stato ridurre i costi della politica, ridurre il numero dei parlamentari riuscire a dare finalmente una risposta coerente a quello che dovrebbe essere una sana amministrazione leggi più rapide e rispondere ai cittadini e alle imprese in maniera più efficace Grazie di cuore onorevole da parte mio e del Comitato Ci Siamo in Bruxelles Buon lavoro Grazie a tutti voi e mi raccomando andiamo a votare sì Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici